Nel mondo del lavoro la parola vendita, purtroppo, è ancora spesso considerata una parola antipatica. Resistono vecchi pregiudizi e stereotipi etici e intellettuali. Vendere non fa per me, lo dicono in tanti. Questo è un problema perché in questo mercato del lavoro è importante che in tutte le organizzazioni, tutti abbiano sensibilità di vendita, a prescindere dalla professione e dal ruolo. Sulla base dell'esperienza che ho maturato in questi anni, quindi, ho creato questo corso che si chiama Tutti a vendere, che è un corso pensato per chi non fa il commerciale, per chi non è un venditore, ma lavora nel terzo millennio e lavorando nel terzo millennio ha bisogno di maturare, sviluppare sensibilità commerciali. Quindi noi durante il corso lavoriamo da un lato sugli aspetti culturali, emotivi, psicologici relativi al concetto di vendita e dall'altro sulla parte di tecnica, tecniche comunicative, tecniche organizzative relative al concetto di vendere. Non tutti sono commerciali, ma tutti devono sviluppare sensibilità commerciale. Quindi se nella tua azienda c'è questa attenzione a che tutti sappiano in qualche modo vendere, a prescindere dal ruolo, questo è il corso giusto. Tutti a vendere. Vi aspetto!